Va aggiornata rispetto ai numeri della nostra manovra economica, confidiamo che la crescita sarà sicuramente superiore e vi anzi preannuncio oggi è martedì che domani pomeriggio a Palazzo Chigi si riunirà la cabina di regia per gli investimenti, sono state invitate le più grandi aziende partecipate del nostro paese e siamo lì a valutare quale sarà un piano addizionale per gli investimenti, quindi lavoriamo seriamente per la crescita, non lanciamo programmi oltre che per le riforme che abbiamo annunciato.